eccoci qui cari amici in questo secondo video momentaneamente ultimo ma non ultimo perché nel pomeriggio arriverà qualcos'altro che se per oggi o vediamo un po' c'è in bolleno la possibilità di fare un deluxe zecchillo show vediamo un po' probabile che si faccia oggi nel caso quello pubblico ma cioè lo pubblico come video lo tengo privato per oggi lo rendo pubblico domani insomma vediamo un po allora interlugano parliamo di interlugano la classica amichevole estiva dell'inter finisce con un netto 5 a 0 dall'inter sugli svizzeri gol di dalbert nel primo tempo per l'inter al quarto sempre nei primi 45 minuti autorete dagli ospiti con kes kes 36esimo lautaro martinez doppietta con doppio assist di alexis sanchez al 36esimo e al 43esimo poi girandola di campi per l'inter lukaku young ericsson d'ambrosio radu salseito brosven angolan kolarov e devrai perisic gol nel secondo tempo al 40 settesimo di lukaku su rigole mi sa che c'era stato anche lo 6 a 0 ma è stato annullato per gli ospiti ardaic lungo i coviglio se lascio giovanovic seferai de keroz sentinaro soldini e manicone cambi quindi manita dell'inter beh d'altro voglio dire senza offendere lugano però l'inter è una squadra autochetta beh grazie a voi tutti vi auguro buon pranzo perché ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo noi ci vediamo più tardi non è da escludere che il deluxe zekilo show possano andare in onda già questa sera probabile di sì vediamo come si mettono le cose anche perché non credo che mi ritiro tardi oggi quindi dovrei farcela beh che poi credo ora già chiesto ve lo dico credo al massimo al caso di fare giusto altri due video uno sull'anteprima di nxt se la mettono entro un certo orario e l'altra ho detto deluxe zekilo show grazie a voi tutti alla prossima ciao ciao